Buongiorno! Buongiorno! Stamattina l'abbiamo presa con più calma anche perché abbiamo fatto varie cosette come qualche pulizia del van e siamo andate a fare il nostro primo carico e scarico siciliano. Siamo andati in un'area sosta che si chiama playtime vicino lì a Castellamare del Golfo. C'eravamo più di un'ora abbiamo parlato tantissimo con il gestore che è molto simpatico, proprio siciliano. Lo scarico delle grigie con il secchio però alla fine non hanno la classica griglia quindi loro ti danno un secchio. Fortunatamente avevamo poche acque grigie 25 quindi dai. Sì alla fine era poca roba e tra l'altro il prezzo buono perché 6 euro non male. Noi veniamo da carico e scarico in Sardegna che a volte meno di 15 non lo trovi quindi ottimo. Poi ci siamo spostate siamo venute a in questo momento siamo a Gibellina Nuova. Dopo faremo una passeggiata qua. Questa installazione da quello che ho capito si attiva quattro volte al giorno riproducendo i rumori delle strade della vecchia Gibellina. Si è alzato un vento un po' forte. Sì allora abbiamo fatto la passeggiata Gibellina Nuova abbiamo incontrato anche due turisti diciamo come noi che ci hanno chiesto se sapevamo qualcosa su questa arte contemporanea su queste strutture e azioni però noi abbiamo anche guardato su internet ma in realtà non abbiamo trovato molto c'è un'app da scaricare che loro dice che hanno provato a scaricare ma a quanto pare non funziona quindi niente abbiamo fatto una passeggiata ma non è che abbiamo capito molto. Dopodiché ci sposteremo verso Gibellina vecchia vecchia perché praticamente nel 1968 c'è stato il terribile terremoto del belice e rase al suolo parecchi paesi. Fu invitato anche Alberto Burri che venne qua vide la nuova location della nuova cittadina. Gli chiesero di costruire qualcosa ma lui vedendo il nuovo paese diciamo che era quasi finito. Disse io qui non ci faccio niente. Allora si fece portare a Gibellina vecchia dove ancora c'erano tutte le macerie c'è proprio un pezzo che disse lui adesso lo leggiamo che ha più senso. Era quasi a 20 chilometri ne rimasi veramente colpito mi veniva quasi da piangere e subito mi venne l'idea ecco io qui sento che potrei fare qualcosa io farei così. Compattiamo le macerie che tanto sono un problema per tutti le armiamo per bene e con il cemento facciamo un immenso cretto bianco così che resti perenne ricordo di questo avvenimento. A me vengono i brividi solo a leggerlo e secondo me vederlo dal vivo pensando che comunque veramente i resti della vecchia città sono stati inglobati in questa opera d'arte secondo me è toccante. Infatti noi adesso andremo a vedere quello che si chiama appunto il cretto di Burri. Ieri non sapendo cosa voleva dire cretto siamo andate su google e abbiamo scoperto che cretto sta per spaccatura. Le spaccature praticamente stanno a indicare diciamo i vari vicoli di quello che era Gibellina vecchia. sono 80.000 metri quadrati di opera. Che figo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno ragazzuoli, buon pranzo tra un po' perché oggi è tardi, mattinata abbastanza easy, nel senso che abbiamo fatto tutte quelle cose che ogni tanto bisogna fermarsi e fare. Io ho fatto gli esercizi, Giorgio ha fatto il buccato. Siamo sempre qui al Creto di Burri dove abbiamo passato la notte, c'è un bel parcheggio lì. Facciamo una piccola passeggiata qua in questi pochi luderi che sono rimasti, poi ci spostiamo e andiamo verso Poggio Reale Antica. Che è sempre un altro borgo devastato da quel terremoto, sono tanti i paesini che sono stati devastati da quel terremoto. Questa zona. Grazie. 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 Grazie a tutti. Pericolante, vabbè, ma noi facciamo soltanto una passeggiata, non entriamo dentro. No, no, non entriamo in nessuna parte, speriamo di non prenderci nessuna multa. Ma abbiamo visto che altri sono entrati una settimana fa, quindi... Andiamo in tour a Poggio Reale Antica. Non so se si vede, c'è il vasetto con una pianta. No. 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 ancora da un banco di scuola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ciao quindi se è lungo la strada troviamo un posticino all'ombra ci fumiamo a mangiare wow a dopo oddio è orrenda come cavolo fai qua pausa pranzo molto 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 easy velocemente fa caldo e ci abbiamo fame grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti perché avendo il frigo piccolo alla fine bisogna fare spesa molto molto spesso siamo finalmente arrivati ad Alcamo però un po' vari giri con il camper come al solito maps che ci manda le strade strane 6 e mezza 6 e mezza io direi che ora del gelato perché da ora di pranzo abbiamo detto poi da voi ci mandiamo un bel gelato quindi niente adesso mangiamo il gelato poi faremo una passeggiata qua ad Alcamo e poi non lo so vediamo e poi vediamo vediamo ci domandavamo ma che caspita di verdura è questo cos'è allora alla fine erano zucchine zucchine però che in camper non ci è quindi niente dice che sono molto buone e che vanno bene per chi ha problemi di stomaco abbiamo chiesto il nome se avevano un nome particolare lui ha detto zucchine zucchine niente fa bene ci seguite piccoli futuri campiristi molto interessati uno ha addirittura salito sopra si si poi dopo 1-3 giurda stava mettendo in moto non mi lasciavano andare mi hanno rispito di domande ma quanto costa ma ma quando lo fate ma di dove siete mi piace la Sicilia insomma interrogatorio il giro ad Alcamo è stato veramente molto breve siamo nuovamente in viaggio perché adesso stiamo andando a Castellamare del Golfo dove eravamo l'altro ieri perché domani arriva il pacco con il rubinetto quindi ci spostiamo direttamente lì e così ritiriamo domani il pacco e poi proseguiamo in giro compri i kiwi gialli costano anche di più quelli gialli e poi li apri e scopri che sono verdi vabbè un po' no vabbè il primo era giallo ecco vediamo gli altri vabbè